Prima ha distrutto un distributore automatico di alimenti, poi ha fatto irruzione in un ristorante, insomma una vera e propria notte di follia in Valtiberina tra Sansepolcro ed Anghiari. Tutto è iniziato ad Arezzo attorno alle 4 del mattino del 25 aprile, quando il 47enne Aretino, con precedenti ed attualmente in cura presso il Servizio di Salute Mentale, ha sottratto l'auto al padre con il quale vive. Da qui si è diretto a folle velocità a Sansepolcro, dove ha devastato con una mazza i distributori automatici, infrangendone i vetri e prendendone il contenuto. Però non lo so, io ho sentito così, tiro che qualcuno è entrato dentro, ha rotto il specchietto, ha fatto danni. La folle corsa però non si è fermata qui. Alle 7 del mattino il 47enne infatti è arrivato in località La Scheggia di Anghiari, dove ha mandato in Frantumi la vistorata del ristorante che vedete alle mie spalle per rubare alcune bottiglie di vino. Da qui si è separato dalla macchina ed è scappato a piedi. Immediate le ricerche dei carabinieri che si sono concluse a Mottina, dove il 47enne è stato trovato frastornato e in evidente stato confusionale. I militari, a conoscenza dei problemi dell'uomo, sono riusciti a convincerlo a farsi assistere dal personale del 118 intervenuto sul posto, scortato all'ospedale di Sansepolcro per le cure mediche di prima necessità e poi trasferito ad Arezzo nel reparto di psichiatria. Adesso l'uomo dovrà rispondere dei reati di danneggiamento aggravato e furto aggravato. Il 47enne è stato infine sanzionato anche per la violazione delle norme anti-Covid.